Possiamo dire che stasera Pescara ha fatto una figuraccia sul campo del Crotone, non è esagerato forse definirla così questa prova per una settantina di minuti non c'è stata praticamente partita, come mai? Noi speravamo di fare una partita sicuramente diversa, speravamo di poter mettere in difficoltà il Crotone in quelli che pensavamo essere non tanto punti deboli ma possibili situazioni che potevamo sfruttare. Non è stato così, merito al Crotone che è una buona squadra e lo sappiamo, ma chiaramente oggi ci sono anche dei nostri demeriti. Oltre al danno, la beffa dell'espulsione di Bojinov dalla panchina, vogliamo spiegare cos'è accaduto perché dalla tribuna ovviamente non abbiamo capito molto il motivo dell'allontanamento del giocatore bulgaro. Ma questo non lo deve chiedere a me, deve chiederlo ai direttori di gara, io per quello che ho sentito non era stato detto niente. Ma noi al direttore di gara non potremmo mai chiederlo? Allora questo dubbio resterà, nel senso che non ho sentito cose che mi lasciavano pensare ad un possibile allontanamento e anch'io sono rimasto sorpreso di questo. Questa squadra, questa sera in campo ancora una volta col 3-5-2 ma con pochissimi centrali di ruolo in difesa, può reggere questo modulo, questa squadra ancora? Non credo che i moduli siano la soluzione di tutte le cose. Però del grosso centrale di difesa non è una cosa naturale? Credo che sia più importante l'atteggiamento, credo che sia più importante i principi e se guardiamo del grosso la settimana scorsa, prima di farsi male aveva fatto un'ottima gara nella stessa posizione, quindi non credo che sia questo assolutamente il problema. Lei parlava di atteggiamento, pochi minuti fa al nostro microfono ha detto Galano, questa sera è come se non fossimo scesi in campo, se non ci svegliamo rischiamo di finire giù? Ora urge svegliarsi, nel senso che dobbiamo ritrovare i principi che ci hanno fatto far bene in determinate partite, dobbiamo ritrovare alcune, la determinazione, l'agonismo che magari ci hanno fatto ribaltare la partita con il Cosenza in 10, quelle sono le cose che dobbiamo cercare di ritrovare in fretta per cambiare il trend di questo momento. Alla vigilia di una gara così delicata come quella con l'Ascoli è ipotizzabile un ritiro, visto che il Pescara prima delle gare casalinghe non fa più ritiro, in pratica a questo punto, in questa situazione probabilmente un ritiro forse servirebbe? Ma questo si valuterà in settimana, non è questa cosa che adesso è la priorità a cui pensare dal mio punto di vista.